Oggi video espressamente dedicato a chi sta iniziando con il mondo dei droni FPV e vi voglio parlare di questa robettina qui e adesso vi chiederete Davide ma che ci stai facendo una recensione di una borsetta? No ragazzi qui dentro c'è tutto quello di cui avete bisogno per iniziare in modo semplice e veloce con il mondo dei droni FPV eccolo qui stiamo parlando del Cetus X il Cetus FPV kit vi arriva con questa bella borsettina dove all'interno avete veramente tutto quello che vi serve per iniziare a volare con un drone FPV su un lato abbiamo eccolo qui bello protetto il Cetus X e in questa piccola borsettina abbiamo una piccola bustina con eliche di ricambio viti dei tool per connettersi all'USB e un giravite fatto apposta per le viti che troviamo su questo drone quattro batterie il filo USB per la ricarica e il caricabatterie sull'altro lato abbiamo libretto delle istruzioni tra l'altro fatto molto bene la radio per volare che è una light radio 3 adesso la faccio vedere e abbiamo il suo visore analogico partiamo subito con lui ragazzi il nostro attore principale il Cetus X 95 mm da motore a motore corpo totalmente in plastica quindi ultra leggero sono 55 grammi questa scocca in plastica protegge una scheda only one alla RX integrata che può essere o ExpressLRS o FRSKY in base a quale modello scegliete di prendere perché ci sono due modelli quello con Flight Controller dotato di Betaflight che è quello che vi consiglio perché così avete pure ExpressLRS che veramente è uno dei top RC Link altrimenti prendete il Flight Controller firmware di Beta che è un firmware abbastanza chiuso non ci potete tanto mettere le mani sopra e vi arriva appunto con protocollo FRSKY il Flight Controller è appunto un F4 Only One che ha un ESC da 12A situato qui sotto e qui potete vedere insomma l'antennina della nostra RX ExpressLRS che sta incorporata nella scheda la VTX è alloggiata qui dietro sembrerebbe subito agganciata dietro la telecamera che è servita da questa antenna che non è una omnidirezionale però insomma nei miei test si è comportata anche abbastanza bene la VTX è una M0425 che vi arriva fino a 400 mW il tutto impostabile tranquillamente da Betaflight OSD se ci accedete con radio attraverso gli occhiali e siete in grado insomma di andare a smanettare e cambiare direttamente la potenza i motori che vedete qui sono quelli by Beta FPV sono dei 11.0T da 11.000 KV che servono senza problemi le batterie che andrete a utilizzare si usano due batterie da 450 mAh 1S con attacco proprietario BT2.0 quindi attenzione quando andate a prendere le batterie ve ne servono due perché vengono agganciati a questi due connettori che vedete qui e quindi alla fine questo drone e questi motori vanno con un totale di 2S da 450 mAh e va veramente bene dopo ve lo faccio vedere nei test qui vicino ai connettori per l'elipo vi trovate pure questo cavetto qua e molti di voi si chiederanno ma che diamine è? ragazzi questo è il connettore per l'USB infatti questo drone non ha un connettore USB protetto ma all'interno del vostro kit vi danno questo piccolo connettore che appunto trasforma il connettorino piccolo che vi ho fatto vedere prima in una porta USB-C quindi attenzione ragazzi perché questo non si trova bene in giro non viene venduto nemmeno singolarmente nello shop di BetaFPV tenetelo con molta cura vedete si aggancia in questo modo e alla fine insomma siete in grado di connetterlo all'USB e la cosa carina in questa versione che c'ha il firmware di Betaflight potete pure andare insomma a visualizzare le impostazioni non vi consiglio se siete principanti di andare a toccare assolutamente niente mi raccomando semmai è una cosa che penserete di fare più in là anche perché questo è un kit pensato apposta per chi inizia passiamo al punto veramente forte che secondo me porta questo kit tra i top che potete prendere per iniziare ed è appunto il fatto che finalmente possiamo inclinare l'FPV cam e questo ragazzi è veramente fondamentale per chi inizia perché quando inizierete metterete un'inclinazione abbastanza parallela al terreno in questo modo andrete veramente più piano e sarà più facile per voi iniziare mano a mano che prendete confidenza e quando volete spingere di più andrete ad inclinare l'FPV cam così quando per voi il drone risulterà orizzontale al terreno in realtà vedete sta in questa direzione quindi spinge di più questa cam potete inclinarla fino ad un massimo di 40 gradi un'altra cosa simpatica insomma di questo drone che al di là della scheda che è un all in one quindi purtroppo se vi si rompe qualcosa insomma o la riparate la dovete sostituire per intero però se andate a rompere insomma i motori questi sono plug and play come potete vedere e veramente si sostituiscono in un attimo la scocca alla fine è una plastica un po' morbida agli estremi che va a indurirsi verso il centro questa cosa consente di proteggere meglio l'elettronica qui e in caso di botte insomma ammortizzare un po' meglio ai lati io ci ho fatto un bel po' di crash finora a retto ecco però non è che mi dà proprio così la sensazione di ultra resistenza però il fatto che qui è tutto quanto solido insomma probabilmente ha una certa durabilità le eliche sono a 4 pale sono delle Genfal 2020 che devo dire che vanno abbastanza bene e gli danno anche tanta stabilità vanno ad incastro avrei preferito delle due vitine specie perché qui ci crashate parecchio però insomma finora non mi è mai capitato che saltassero via il caricatore USB-C è quello solito insomma che abbiamo visto pure in altri modelli di beta FPV la cosa insomma simpatica è che c'è anche un test quindi io posso tranquillamente andando ad inserire la batteria vedere quant'è lo stato della sua ricarica ne possiamo caricare due alla volta se non vi prende la ricarica basta staccare e riattaccare l'USB-C tempo di ricarica per caricarne due di queste lipode a un S sono circa 40 minuti e siete operativi passiamo alla radio la radio è una light radio 3 quindi migliore rispetto alle prime light radio che erano veramente piccoline questa si impugna abbastanza bene indicata per chi vuole imparare a volare con i pollici forse un po' meno per chi guida con i pinch ma comunque ci si riesce ad adattare ovviamente si ricarica anche questa con USB-C i gimbal sono anche abbastanza decenti questi sono gli switch che avete a disposizione già tutti belli configurati e associati con il vostro flight controller trovate questo lo switch dell'arm uno switch B che è uno switch a tre posizioni su cui hanno già configurato le tre modalità classiche di Betaflight che sono ovviamente l'angle, l'horizon e l'air che sarebbe il nostro fantastico agro sullo switch C avete il turtle mode quindi vi consente di ribaltare il drone per recuperarlo senza andarlo a rigirare a mano e lo switch D non è configurato quindi è assolutamente libero cosa molto importante è che ci avete pure un alloggio nano bay eccolo qui ragazzi quindi volendo questa radiolina ve la potete portare pure un po' più avanti se non volete passare a qualcosa di più professionale perché ci mettete un modulo esterno e avete degli RC link che possono essere anche professionali passiamo al visore molto piccolino ma dotato di uno schermo più che buono secondo me per volare in analogico è un VR03 FPV Google ha l'antenna che sta qui che ovviamente si apre e si chiude molto comoda anche questo si ricarica con l'USB-C qui avete il pulsante di accensione vedete che si è acceso il tutto con questi pulsantini potete scorrere tra i vari canali e le varie bande della trasmissione analogica e con questa S siete in grado insomma di premendola di attivare la funzionale di ricerca automatica per i più picri che vi becca subito il canale che vi interessa molto carino questo pulsantino rosso che registra il DVR si avete capito bene molto molto bella questa funzionalità con questi visori avete questo slot dove ci mettete un SD card e vi registrate i vostri DVR che poi vi potete vedere quando e come volete forse è un po' scomodo per chi ha il testone grosso però alla fine ragazzi è un visore che vi dà tutto quello che vi serve per iniziare a volare in analogico iniziare con un drone del genere che ti consente di volare sia al chiuso sia all'aperto secondo me è eccezionale perché quando fuori fa freddo e piove vi chiudete dentro casa e fate il training al chiuso quando ci stanno belle giornate ragazzi questo è un drone che nonostante la sua leggerezza di 55 grammi vi consente pure di divertirvi all'esterno è chiaro che quando il vento è un po' più aggressivo cioè qualche folata lui accusa però durante i miei test devo dire che con il tuning stavolta BetaFPV sarà perché questa è la versione con BetaFlight ha fatto un ottimo lavoro il drone è parecchio inchiodato agli stick devo dire che pure andandolo un po' a stressare non ha sofferto di quei brutti fenomeni di washout in cui il drone sgomma, slitta sull'asse dello Yoh fenomeno che spesso troviamo su altri CineWhoop per dirvi ce l'ha pure il DJI Avada quindi fate un po' voi mi ha stupito perché ve lo dico sinceramente perché effettivamente è più grande dei suoi fratellini più piccolini che sono già usciti e sinceramente il mio primo dubbio era quello ma un drone così grande alla fine non è che corre un po' troppo per un principiante invece ragazzi il fatto che è leggermente più grande e queste batterie che alla fine gli danno una potenza 2S lo rendono incredibilmente più stabile quindi basta un attimino fare un po' training con lo stick quindi spesso a chi inizia esagera e quindi gli viene da muovere fortemente questo stick invece ragazzi lo dovete muovere in modo docile alla fine ne guadagnerete tanto perché questo drone risulta parecchio stabile indoor che era lì dove mi preoccupavo e poi ragazzi finalmente la beta FPV ha messo questa FPV cam inclinabile da 0 a 40 gradi che vi accompagnerà tranquillamente durante i vostri miglioramenti si vedono con inclinazione a 0 i duct nel feed FPV ma che ci frega ragazzi stiamo iniziando a volare poi quando andate all'esterno vi potete permettere pure di inclinare un po' più questo FPV cam e dare sfogo al divertimento ovviamente è un drone si ci potete fare un po' di roll, un po' di flip ma non è un drone da freestyle è pensato per iniziare a imparare in cruising mi raccomando fatevi la versione con Express LRS e con le flight controller dotato di beta flight perché è vero che non avete più quelle modalità automatiche che vi fornivano gli altri modelli vedi la versione Cetus Pro eccetera di beta FPV è meglio a questo punto iniziare con un po' di angolo e poi soprattutto all'esterno ragazzi perché dentro casa indoor se avete un ambiente poi piccolo l'angle è più che consigliato ma quando andate all'esterno sbam cercate di switchare in agro e vi ci divertite anche perché alla fine se casca avete la possibilità pure di utilizzare il turtle mode all'esterno pure io ci ho sbattuto alla fine questa struttura insomma i crash quotidiani bene o male li regge se poi ragazzi iniziate a schiantarvi come se non ci fosse un domani sopra le mura è chiaro che questa scocca prima o poi vi abbandonerà comunque tutti quanti i pezzi li trovate sul sito di beta FPV il segnale parliamo di LRS ragazzi non c'avete quell'incubo dei failsafe che accompagnano queste build qui quando utilizzate il protocollo FR Sky finalmente la camera FPV è stata migliorata perché ragazzi si vede abbastanza bene sia outdoor che indoor e poi parliamo anche di costo perché con una spesa di che va dai 275 euro circa fino a 295 euro circa in base alla versione che scegliete ragazzi vi danno la borsetta con veramente tutto quello che avete bisogno per iniziare a volare senza preoccupazioni di configurazione di sbattimenti e via discorrendo mi raccomando per gli acquisti utilizzate i link che vi lascio qui sotto in descrizione spero che la beta FPV con questo kit apra parecchie porte a voi che non vedete l'ora di iniziare con questo mondo fantastico e noi ci vediamo alla prossima mi raccomando iscrivetevi al canale campanellina like gomme sempre e dai ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti